Noi abbiamo le statistiche di incidentalità sia del 2022 che del 2023, sia degli incidenti tra automobili che con i pedoni. Certamente Corso Umberto è in alto in questa graduatoria. Da tempo noi stiamo studiando una serie di soluzioni. Certamente ci sarà la rimozione dei New Jersey, l'inserimento di cordolo, questo è da mesi che stiamo studiando col SIN. Abbiamo avuto il finanziamento grazie alla città metropolitana. Poi bisogna fare una strategia un po' mista fra semafori, sovrappassi pedonali e autovelox. Perché i sovrappassi pedonali hanno pregi e difetti, perché tutti sopra hanno un sobbalzo, le ambulanze hanno un problema, le motociclette hanno un problema, ci sono vibrazioni specialmente che si avvertono di sera e di notte. I semafori, adesso stiamo mettendo i semafori intelligenti, dobbiamo fare una semaforizzazione che fa sì che se si va alla velocità giusta, cioè sotto i 40 km all'ora, perché in città non si può andare a più di 40 km all'ora, si trova il verde. Se si va sopra si trovano continuamente rosso. Poi autovelox, con molte serie e molte da pagare per chi va in eccesso di velocità. Quindi è una strategia molto complessa che stiamo valutando con l'assessore dei Jesu e che valuteremo anche col prefetto. Grazie a tutti.